È datata 31 maggio la delibera dell'autorità per l'energia, il gas e il servizio idrico che sanziona nuove acque per violazioni delle regolazioni tariffarie. La sanzione ammonta a 114 mila euro e si riferisce a violazioni accertate dall'autorità su alcune poste contabili riferite agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Negli uffici di nuove acque è arrivato così il nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza che ha prelevato tra il 14 e il 18 dicembre scorso alcuni documenti. Da questi documenti e da altri forniti da nuove acque stesse, l'autorità ha stabilito la sanzione di 114 mila euro da pagare al termine del procedimento. La condotta, si legge nella delibera, ha violato disposizioni dell'autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario, oltre che la correttezza delle informazioni da rendere all'autorità affinché eserciti le proprie funzioni. Resta da capire se nuove acque farà ricorso contro questa sanzione. La società in una nota scrive L'autorità ipotizza che nuove acque non si sia attenuta al procedimento formale per l'invio di dati di gestione all'autorità stessa. Si tratta quindi di rilievi formali senza alcun impatto sulla tariffa applicata alla clientela e che non implicano un mancato rispetto dei regolamenti in vigore cui nuove acque si attiene rigidamente. Infatti l'ispezione ha valutato conforme l'operato di nuove acque in tema di applicazione delle tariffe, deposito cauzionale, investimenti, tariffa depurazione per progettazione, rimborso, tariffa depurazione, assenza della voce a rimunerazione capitale investito nelle tariffe dal 2012 al 2015.